Chiuso il primo giro di consultazioni, il Presidente Mattarella chiede una soluzione rapida della crisi, conceda ai partiti qualche giorno per arrivare a un'intesa e fissa nuove consultazioni per martedì prossimo. Per il Capo dello Stato è possibile solo un governo che ottenga la fiducia del Parlamento con accordi su un programma per il Paese, altrimenti la strada è quella del ritorno alle urne. Il Movimento 5 Stelle riunisce i parlamentari e apre al dialogo con il Partito Democratico, un incontro è previsto già per questo pomeriggio, i pentastellati però non chiudono definitivamente la porta alla Lega, irrinunciabile per Di Maio, resta al nodo del taglio dei parlamentari. E intanto si apre domani il vertice del G7 a Biarritz, al quale partecipa per la prima volta il Premier britannico Boris Johnson, che sulla Brexit ha affermato ieri di volere un accordo con l'Unione Europea. Disaccordo totale invece sulla proposta di Trump di ripristinare il G8 con il ritorno della Russia al tavolo dei grandi. Attenzione puntata anche sul meeting di Jackson Hole nel Wyoming, dove sono riuniti i principali banchieri centrali del mondo. Da 13 giorni in mare resta a largo tra le coste maltese e siciliane la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo, di cui 103 bambini o minorenni. L'equipaggio lancia l'allarme, le razioni di cibo bastano soltanto per 5 giorni e siamo preoccupati per il rapido peggioramento dello stato di salute mentale delle persone a bordo. Le 7.32, buongiorno, benvenuti al telegiornale che apriamo inevitabilmente con il racconto della crisi di governo, le parole del capo dello stato Mattarella, le riunioni che già ieri sera in realtà sono iniziate, quelle informali e quelle ufficiali che si annunciano per il pomeriggio di oggi. Tutto questo perché i tempi dettati per l'appunto del capo dello stato sono strettissimi. Mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti politici che sono state avviate iniziative per un'intesa in Parlamento per un nuovo governo e mi è stata avanzata la richiesta di avere il tempo di sviluppare questo confronto. Anche da parte di altre forze politiche è stata espressa la possibilità di ulteriori verifiche. Al termine della seconda giornata di consultazioni il capo dello stato motiva così la sua decisione di concedere ai partiti altri giorni di trattative per formare una nuova maggioranza per dare un governo al paese. Da appuntamento a martedì per un nuovo giro di consultazioni avvertendo, in mancanza di un'intesa per una maggioranza certa, la strada è quella delle elezioni. Nella giornata di ieri l'ultima ad essere ricevuta dal capo dello stato è la delegazione dei 5 Stelle guidata da Luigi Di Maio che al termine dell'incontro spiega sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati e noi non lasciamo affondare la nave. Il capo politico del movimento elenca quindi dieci obiettivi prioritarie per il paese mettendo il taglio dei parlamentari al primo posto e proprio su questa riforma costituzionale nella serata di ieri ottiene il pieno mandato dei suoi gruppi per trattare con il Partito Democratico spiegando il taglio del numero dei parlamentari e il presupposto per la continuazione della legislatura. Matteo Salvini invece dopo il colloquio con Mattarella ribadisce la posizione della Lega la via maestra non può essere un governo di palazzo o un governo contro ma solo le elezioni e non chiude la porta ad un rilancio dell'intesa con i 5 Stelle Se c'è la voglia di lavorare, la Lega è nata per questo, se i no diventano sì, io non porto rancore. Abbiamo espresso al Presidente, dice il segretario del PD Zingaretti, la disponibilità a verificare la possibilità di una diversa maggioranza e l'avvio di una fase politica nuova nel segno della discontinuità politica e programmatica. Siamo distanti dal Movimento 5 Stelle ma è utile provare con un governo di svolta. Dal centrodestra Forza Italia con Berlusconi dice no a maggioranze improvvisate e quindi o una maggioranza di centrodestra o le urne. Ancora più netta la richiesta di voto anticipato da parte di Giorgia Meloni, fratelli d'Italia. Le elezioni sono oggi l'unico esito possibile, spiega. Se Mattarella dovesse seguire la strada di un incarico esplorativo dovrebbe affidarlo ad un esponente di centrodestra per rispettare la volontà popolare. E allora mentre c'è qualcuno che già si spinge a immaginare i nomi dei possibili presidenti del Consiglio, addirittura dei ministri e tutto è ancora da chiudere, da decidere soprattutto perché, come avete capito, ci sono in realtà due possibili percorsi da intraprendere. Il taglio dei parlamentari è il nostro primo punto e una riforma storica si deve fare. Parola di Luigi Di Maio che stamattina dal Corriere della Sera torna ad insistere su un tema caro al Movimento. Se un'alleanza con il PD sia da fare, per il leader grillino il punto imprescindibile di partenza è la riduzione di 345 deputati e senatori. In cambio sarebbe disposto a sacrificare la sua di poltrona, quella da ministro nel futuro esecutivo. Una riforma che agita le trattative in corso con i Dem già da ieri pomeriggio che avrebbero accettato in vista di una nuova legge elettorale proporzionale. Compromesso non in dolore, che mantiene alta la tensione tra i pentastellati, complice il pressing di Alessandro Di Battista per il voto anticipato e quell'SMS di Casaleggio subito smentito in cui il titolare di Rousseau faceva marcia indietro dicendo di non fidarsi del PD. A dare il colpo di grazia poi l'ultima offerta di Salvini per un nuovo governo giallo-verde, questa volta con Di Maio a Palazzo Chigi, anche se i due ex alleati non si parlano ormai da giorni. Scenari alternativi per il momento, perché la linea che esce dal vertice notturno di ieri con lo Stato Maggiore dei Cinque Stelle, dopo l'assemblea congiunta dei gruppi, è di continuare le trattative per un governo rosso-giallo. Presente alla riunione, oltre a Di Maio e capigruppo, tutte le anime del movimento, da quella governativa, con fraccaro e buona fede, a quella più movimentista, rappresentata da Di Battista e dalla taverna. Siamo fiduciosi, commenta alla fine Francesco Duva, credo che una base c'è e credo che siamo tutte persone serie ed affidabili, negoziati che continueranno anche oggi pomeriggio, con un primo incontro tra le delegazioni dei Cinque Stelle e quelle di un PD nuovamente diviso. I renziani, dopo i tre punti irrinunciabili esposti da Zingaretti, accusano l'area che fa capo al segretario di non volere l'accordo. Il resto è il nodo del Premier, con lo che è di Renzi sia a Di Maio che a Conte e il secco no del segretario Dem al Conte Bis in nome del governo della discontinuità. A proposito di trattative, di accordi, ce n'è uno che è particolarmente complicato, è quello che riguarda la Brexit. Ci sta lavorando il neopremier britannico Boris Johnson che cerca almeno di risolvere la questione delle confine tra l'Irlanda, la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Boris Johnson corre verso la Brexit e nelle ultime ore lo ha fatto sull'asse Berlino-Parigi. All'Eliseo ieri la conferma. L'accordo raggiunto tra Londra e Unione non è negoziabile. Emmanuel Macron lo ripete al neopremier britannico ricordandoli, inoltre già da due giorni, che il cospicuo debito del Regno Unito con Bruxelles andrà comunque saldato, deal o no deal, accordo o non accordo. Una frase che ripete anche Johnson quando ribadisce che l'uscita ci sarà comunque, con tutto quel che ne conseguirà, sarà una Brexit fatta in modo pragmatico e assennato, parole di primo ministro, a cui serve in ogni caso una soluzione specifica al problema backstop irlandese. Come ha accennato l'altro ieri dalla cancelliera Merkel, ci si sta lavorando. Anche qui, secondo Macron, una soluzione alla questione doganale, futura tra le due Irlande, si potrebbe trovare, ma nel quadro di quanto già concordato. Quindi una soluzione a rischio gradimento da parte di Johnson, che appare quasi spalle al muro davanti alle due potenze europee. Il tempo per evitare l'uscita violenta di Londra dall'UE ci sarebbe pure, ma sono la mancanza di fiducia di Bruxelles, e di Parigi in particolare, dopo tre anni di trattativa con Londra, e i timori per la caotica situazione politica del Regno, a rendere tutto più difficile, con il Parlamento di sua ammestà britannica, incapace per mesi di trovare una convergenza sulla Brexit. L'abbandono britannico del club europeo avrà ripercussioni sull'intera economia continentale, quel che l'Unione vuole evitare è trovarsi addosso, il ruolo di responsabile primo del mancato agreement con Londra, come da sempre sostenuto proprio da Boris Johnson, a cui Macron ieri all'Eliseo ha ripetuto il futuro del Regno Unito è solo in Europa, Londra con la scelta in favore della Brexit sta rischiando seriamente di diventare a breve nulla di più di un vassallo degli Stati Uniti. Vedremo, intanto comunque i grandi della terra si stanno riunendo proprio in Francia a Biarritz, perché si apre domani il G7, mentre in Wyoming, negli Stati Uniti, convergono i banchieri mondiali, e è un appuntamento annuale di quelli dove si decidono le sorti delle politiche economiche e monetarie. Il Gota della finanza mondiale è riunito da ieri sulle montagne del Wyoming, negli Stati Uniti. A Jackson Hole, banchieri centrali, economisti e accademici di tutto il mondo stanno discutendo delle sfide per la politica monetaria dieci anni dopo la grande recessione. Recessione infatti è la parola chiave, visto che l'economia globale sta rallentando nel nuovo come nel vecchio continente. La Banca Centrale Europea ha lanciato un allarme sui crediti deteriorati in possesso delle banche. L'agenzia Moody's ha abbassato le stime di crescita per l'Italia per il 2020, per non parlare della grave frenata dell'economia tedesca dopo 15 anni di crescita. Nell'America di Trump, la Federal Reserve al suo interno è divisa per i dissensi trapelati sull'ultimo taglio dei tassi. Il governatore della Banca Centrale degli Stati Uniti d'America, Jerome Powell, d'altronde deve fronteggiare di continuo i richiami del capo della Casa Bianca, che chiede una riduzione del costo del credito più veloce e robusta. Ecco perché l'attenzione dei mercati è tutta sulle 16 di oggi, ora italiana, quando Powell pronuncerà il suo discorso. E Trump si prepara a volare in Europa, a Biarritz, sulla costa francese, dove domani si apre il G7. Un G7 che ha rilanciato la questione del ritorno di Mosca nel gruppo dei grandi, proposta sostenuta dallo stesso Trump, ma che non trova il favore dell'Unione Europea, per cui rimangono validi i motivi della sua esclusione, cioè la crisi ucraina irrisolta. Ma al Cremlino il veto non destra scontenti, la Russia ritiene più efficace il G20, perché ne fanno parte anche Cina e India. Torniamo per un momento in Francia, per riparlare del presidente Macron, che questa notte ha avuto uno scambio molto polemico su Twitter con il presidente brasiliano Bolsonaro, a proposito della situazione degli incendi in Amazzonia. secondo Macron bisognerebbe parlarne al G7, inserire il tema in agenda, sei un colonialista, la risposta del presidente brasiliano. A San Paolo ieri in pieno giorno è diventato buio, era il fumo degli incendi che ha oscurato il sole, gli incendi dell'Amazzonia che brucia. Il WWF ha fatto il calcolo e come se ogni minuto prendesse fuoco un campo da calcio e mezzo. Sotto una pioggia di critiche è finito ovviamente il presidente del Brasile, Bolsonaro, che sembra non avere a cuore il polmone più verde e più grande del pianeta, che sotto la sua presidenza ha subito un'accelerazione brusca della deforestazione. Secondo l'Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali del Brasile, da gennaio a agosto i roghi sarebbero aumentati dell'83% rispetto all'anno scorso. È stato un attimo e Bolsonaro ha licenziato il direttore dell'Istituto e accusato le ONG di provocare gli incendi per fare propaganda contro di lui, sostenendo che il disboscamento avviene per contribuire allo sviluppo dell'economia e quindi alle condizioni della popolazione. Uno studio pubblicato su Nature dimostra però che la foresta renderebbe oltre 6.000 dollari per ettaro se quell'ettaro fosse rispettato e ci si limitasse a raccoglierne i frutti, il lattice e il legname. Una magra consolazione c'è, l'hashtag Pray for Amazon, prega per l'Amazzonia, ha raggiunto un milione di tweet in pochi giorni, numeri importanti, almeno l'opinione pubblica sembra avere a cuore il prezioso futuro dell'Amazzonia che produce il 20% dell'ossigeno presente nell'atmosfera e il cui disboscamento provocherebbe danni incalcolabili e irreversibili. Anche l'Europa comincia a muoversi, siamo profondamente preoccupati per i numerosi incendi e monitoriamo la situazione, ha twittato la Commissione Europea. Germania e Norvegia hanno già sospeso i finanziamenti al Fondo brasiliano per la conservazione della foresta. C'è un'altra nave alla fonda nel Mediterraneo con un carico di migranti cerca un porto e la Ocean Viking fra l'altro ci sono più di 100 fra bambini e minorenni a bordo. Abbiamo razioni di cibo per ancora 5 giorni ma la salute mentale dei migranti a bordo peggiora in maniera rapida e preoccupante a lanciare nuova allarme l'equipaggio di Ocean Viking la nave di Medici Senza Frontiere S.O.S. Mediterranea ferma tra Lampedusa e Malta da ormai due settimane. A bordo ci sono 356 persone recuperate in diverse operazioni di soccorso a largo delle coste della Libia tra questi ci sono oltre 100 tra bimbi e minori ma l'S.O.S. lanciato dalle organizzazioni non governative non viene ancora raccolto da nessuno per quanto traperino notizie di possibili accordi per l'eventuale ripartizione dei migranti la Francia si è infatti offerta di farsi carico di un numero considerevole di naufraghi in caso di sbarco ma il permesso di ingresso nelle acque territoriali ancora tarda ad arrivare come successo per la Open Arms sbarcata dopo quasi tre settimane solo dopo il sequestro preventivo dell'imbarcazione ordinato dalla procura di Agrigento che ha consentito la discesa a terra dei naufraghi la nave trasportata a Porto Empedocle è ora sottoposta anche a sequestro amministrativo dopo l'ispezione della Guardia Costiera che ha individuato una serie di gravi anomalie relative anche alla sicurezza e al rispetto ambientale una settantina di migranti sbarcati a Lampedusa domani verranno trasferiti nello spot di Pozzallo poi verranno ripartiti tra gli stati che hanno dato disponibilità all'accoglienza Francia Spagna Germania Portogallo e Lussemburgo è stato trovato morto ieri a New York il capo chef di Cipriani Dolci che è un notissimo ristorante appunto della Grande Mela si chiamava Andrea Zamperoni aveva 33 anni ed era scomparso da sabato scorso il corpo avvolto in una coperta è stato ritrovato dopo una telefonata anonima a pochi isolati da casa sua in un ostello del Queens conosciuto come un luogo di spaccio di droga e prostituzione Zamperoni era originario di Casal Posterlengo in provincia di Lodi e dai primi esami non si è ancora potuto risalire alle cause della morte parliamo invece adesso di un'altra opera di un'altra grande opera la cosiddetta Gronda di Genova ebbene c'è stato uno stop da parte del ministro Toninelli che ha detto così com'è il progetto non va bene se si realizzerà si farà però in modo molto diverso sul piede di guerra ci sono il governatore della Liguria Toti le istituzioni locali gli industriali autostrade tutto il fronte politico del SIA anche il PD tutti per la realizzazione della Gronda di Genova considerata un'opera strategica per alleggerire il traffico sul capologo Ligure uno snodo stradale importante per tutto il paese dopo la TAV l'ultimo strappo con la Lega dell'ormai ex governo giallo verde si consuma con i 5 stelle che bocciano il progetto originario sulla base dell'analisi costi e benefici del MIT dell'ormai ex ministro Toninelli e annunciano l'opera si farà solo se verranno valutate opzioni più efficienti un esito che di fatto comporterebbe notevoli ritardi tra i 6 e i 10 anni di qui le tensioni il commento più duro è quello di autostrade che parla di analisi piena di errori macroscopici soluzioni tecniche irrealizzabili valutazioni arbitrarie Aspi sottolinea come la cancellazione del progetto costerebbe un miliardo di euro di risarcimenti e ancora la contraddizione più grande del documento 5 stelle che dà comunque esito positivo sui costi Toninelli replica la gronda si farà e grazie al lavoro istruttorio del MIT sarà realizzata nei termini in cui è davvero utile a Genova tutti i cittadini italiani l'ex ministro attacca la Lega colpevole a suo dire di aver innescato la crisi di governo quanto ad autostrade Toninelli scrive toni inaccettabili e cita il ponte Morandi basterebbe questo per rendere indispensabile la revisione del progetto per Confindustria in un momento così delicato per il paese il tentativo di compromettere un progetto come la gronda e il logico irresponsabile il presidente della Liguria parla di relazione patacca veniamo al calcio mercato con il Torino che perde i playoff di Europa League mentre domani scatta il campionato si allungano i tempi per la prima panchina bianconera ufficiale di Maurizio Sarri il tecnico alle prese con una polmonite non sarà disponibile per le prime due partite del nuovo campionato la trasferta a Parma di domani e l'importante sfida contro il Napoli in programma sabato 31 in base agli ultimi accertamenti il decorso è positivo ma la doppia assenza è necessaria si legge in un comunicato per rendere possibile la completa guarigione e a Firenze è ancora Ribery Mania il giocatore francese non nasconde le ambizioni sue e della Fiorentina io amo il calcio e mi piace l'idea di misurarmi in un campionato così importante mi aspetto di poter vedere la squadra viola fra le prime tre della classifica l'ex Bayern ancora a corto di preparazione salterà l'esordio stagionale contro il Napoli ma se Montella me lo chiederà dice io andrò in campo è stato il giorno del debutto pure per Zappacosta che si sente già titolare nella nuova Roma di Fonseca sinceramente le motivazioni che mi hanno portato qui sono state la voglia di comunque di ripartire in un certo senso e comunque la Roma è sempre stata una grande squadra un grande club quindi diciamo che il motivo principale è stato quello tra le vecchie conoscenze del nostro campionato pronte a tornare c'è Arturo Vidal che arriverebbe all'Inter in prestito con diritto di riscatto nell'ambito della campagna di dismissioni del Barcellona tutto per azioni legate al destino di Neymar sempre più separato in casa al Paris Saint Germain e che potrebbero portare al Real Madrid impegnato in un braccio di ferro col Barcellona per il talento brasiliano l'attuale portiere del Milan Pepe Reina 7.49 ci dobbiamo fermare perché ora diamo la linea alle previsioni del tempo poi omnibus condotto da Andrea Pernacchioli ci rivediamo se volete più tardi con Coffee Break altrimenti l'appuntamento è per i prossimi telegiornali per i prossimi e per i prossimi per i prossimi Grazie.